Tony io volevo anche salutare con particolare gioia anche il nuovo loghetto del RAI, di RAI 3, la farfallina, da oggi siamo in onda con la farfallina come loghetto, ti piace? Sì, ci dobbiamo fare ancora l'occhio, eccola lì che sta svolazzando in basso a sinistra. Oggi 23 ottobre 2000, ci urge fargli auguri a Daniele che sta su all'audio, tanti auguri Daniele, occhio con i microfoni. Grazie per la visione!